Vogliamo parlare un po' del panorama calcio, anche italiano, con un ospite molto gradito, è tornato a trovarci Federico Zancan, telecronista di Sky Sport. Buongiorno, buona mattinata Federico. Ciao, buongiorno, saluto a tutti. Buongiorno, allora sono tante, devo dire, le notizie che arrivano dal mondo del calcio, come ricordava Giusy poco fa. Allora io vorrei partire dall'Inter, perché neanche il tempo di festeggiare la vittoria dello Scudetto, oggi leggiamo dalla Gazzetta dello Sport che ci sarebbe aria di divorzio fra Conte e i Nerazzurri, è così? Beh sì, sembra di sì, era un po' nell'aria che ci sarebbe stato questo incontro un po' a risa dei conti, nel senso che sappiamo che per l'Inter non è un momento facile, al di là della gioia sportiva dallo Scudetto vinto, dal campionato stravinto, ci sono dei problemi legati ai conti proprio. E quindi c'è stato questo incontro, ci sono degli incontri in questi giorni per fare chiarezza, perché l'allenatore Conte lo vuole, lo pretende, vuole capire dove va e che direzione va il club, quali sono i piani, ovviamente soprattutto legati al mercato, e vuole un'Inter competitiva per rimanere, perché lo sappiamo Conte come è fatto, vuole vincere, vuole fortemente essere competitivo e se la squadra glielo può, se il club glielo può concedere, si va avanti, ma in questo momento insomma sembrerebbe esserciare di divorzio. E poi ci sono altre due persone, calciatori, di cui si parla molto in queste ore, uno è certamente Donnarumma, poi ti lasciamo fare un commento, l'altro ci devi aiutare un po' tu, perché Ronaldo, che insomma sembrava uomo Juve e non si discute, magari si comincia a discutere, facci capire meglio. Ma questa, la vicenda Donnarumma è abbastanza chiara, in questo momento sembra assolutamente lontana dal Milan, anche perché il Milan ha comprato Magnan che è il portiere, che sarà il portiere del futuro. Il caso Ronaldo invece è molto più confuso in questo momento, perché ci manca un elemento, ci manca l'elemento allenatore, non sappiamo ancora chi si siederà l'anno prossimo sulla panchina da Juve, se resta Pirlo, se se ne va e questo potrebbe influenzare la scelta di Ronaldo. Sicuramente una Juve in Champions League potrebbe fare più gol a Ronaldo, se la Juve fosse finita fuori dalle quattro probabilmente Ronaldo avrebbe chiesto l'accessione. In questo momento è molto complicato capire quale può essere il futuro di Ronaldo e anche capire qual è la posizione della Juve, cioè la Juve vuole tenere Ronaldo oppure potrebbe sacrificarlo per fare un po' quadrare i conti, magari per puntare sul nuovo profilo più giovane in attacco. Ci mancano troppi elementi, in questa settimana sapremo qualcosa in più su Pirlo e dunque su chi sarà l'allenatore della Juve e poi a cascata credo capiremo anche il futuro di Ronaldo. Abbiamo letto il post di Ronaldo su Instagram perché poi in questi casi molte volte le notizie viaggiano via social, queste frasi un po' sibiline, sanno un po' di addio, ma naturalmente staremo a vedere. Tornando invece in casa Milan, l'addio di Donnarumma quanto pesa? Ma fa male credo, fa male i tifosi soprattutto perché se effettivamente sarà divorzio, come ormai sembra quasi inevitabile, veder partire a zero un giocatore così cresciuto nel vivaio, che si è sempre detto anche grande tifoso del Milan, proprio nell'annata in cui il Milan ritrova la Champions League, è un'annata così importante, anche poi dal punto di vista delle prestazioni per Donnarumma, sicuramente è qualcosa di doloroso, è qualcosa che sinceramente io non mi aspettavo, nel senso che il Milan va in Champions League, è pronto da secondare da tutti i punti di vista le volontà e le ambizioni di Donnarumma, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista sportivo, e si arriva a questa rottura, sinceramente è qualcosa che era complicato da prevedere, però mi sembra ormai inevitabile, non si capisce ancora un elemento, dove possa andare Donnarumma, visto che chiaramente ci sono tanti club interessati, è un ragazzo giovane del 99 con un potenziale enorme, però tanti grandi club europei, quelli che potrebbero permettersi l'ingaggio, hanno già un portiere, insomma questo rimane un po' il nodo da sciogliere. Rimane un nodo, ma tanto come dicevi, questa settimana qualcosa in più si capirà proprio su tutte le questioni che abbiamo toccato finora, invece questa sera c'è, come dicevamo, la finale di Europa League, via Real-Manchester United, come dicevamo noi italiane, ma certamente è un match interessante da seguire. Assolutamente, assolutamente, sono proprio a Danzig e questa sera ci sarà anche il pubblico, ci saranno 9500 spettatori, va sempre sottolineato questo tentativo di tornare alla normalità, ci sono più di 2000 persone in arrivo, tifosi in arrivo dalla Spagna, o già arrivati dalla Spagna e dall'Inghilterra. È una partita affascinante, mette di fronte due mondi molto diversi, il Manchester United è uno dei club più famosi, più importanti, più ricchi al mondo, con delle stelle straordinarie, molte delle quali passate dall'Italia, Pogba, Cavani e Bruno Fernandes sono i tre giocatori più riconoscibili e tutte e tre hanno avuto un passato importante in Italia, soprattutto Pogba e Cavani. D'altra parte c'è il Villareal, che è un'espressione di una piccola cittadina, poco più di 50.000 abitanti, pensate che se il Villareal dovesse questa sera vincere la Coppa, sarebbe la più piccola città nella storia del calcio a vincere una competizione. Per intenderci, tutta la popolazione di Villareal starebbe al Trafford, potrebbe entrare nello stadio del Manchester United. E però il Villareal è una squadra forte, costruita molto anche sul settore giovanile, con un allenatore, un high emery, che questa Coppa l'ha vinta già tre volte. Insomma, una partita interessante da seguire, Zancan va seguita naturalmente su Sky Sport. Assolutamente. Grazie, buona serata, buona lavoro stasera, ciao. Grazie a voi.